8 di dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione, una delle feste religiose più sentite dalla comunità cristiana, cosa che negli ultimi tempi si sta un po' perdendo. Di fatto per molti comuni la data dell'otto è il via ufficiale al lungo ponte di shopping natalizio. Don Giuseppe. Devo fare una premessa che la comunità di Torgiano vive intensamente, oramai da quasi un secolo, questa festa che è preceduta dalla novena dell'Immacolata, che richiama ogni sera una quantità grande di persone, di bambini che vengono qui vicino a Maria per essere anche aiutati nella catechesi, oltre che nella preghiera. E il momento centrale è questo della diffusione della medaglietta miracolosa che viene dato non solo ai bambini, ma anche ai genitori e tutta la comunità. All'incirca in ogni momento di questa distribuzione siamo più di 3.000-3.500 persone che vogliono portare l'immagine protettrice della Madonna Immacolata. E per me, sacerdote, oramai sono 43 anni che sono in questa parrocchia, è un'emozione. Mi emoziono nei momenti della preghiera, nei momenti della riflessione, perché penso a quanto i torgianesi amino la Madonna Immacolata, che ci protegge e soprattutto, dicevo di anzi, ci proteggerà in questo periodo difficile e duro, non solo a livello economico, ma anche a livello di incontro, di fraternità, a livello politico, a livello sociale, un momento difficile anche per la Chiesa. Grazie.